buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a questo appuntamento a questo webinar all'ultimo webinar del ciclo su dati aperti dalla teoria alla pratica questo è l'ultimo appuntamento di questo ciclo dedicato alla fase cruciale importante della pubblicazione e del successivo di utilizzo è un appuntamento in cui abbiamo il piacere di ospitare dei colleghi particolarmente impegnati in queste fasi ricordo che il ciclo che abbiamo progettato che stiamo erogando è in linea con con il percorso di attuazione e di approvazione delle nuove linee guida open data quindi abbiamo pensato di ripercorrere puntualmente le fasi che sono indicate all'interno delle linee guida proprio per agevolare per supportare le amministrazioni nel processo di pubblicazione dei dati prendo ancora qualche minuto qualche secondo in attesa che tutti i colleghi partecipanti entrino in piattaforma poi passerò la parola al collega ad Antonio Rotundo che ci fa un'introduzione del webinar come vi dicevo questo è l'ultimo appuntamento del ciclo ovviamente come vedete trovate tutti i materiali dei precedenti delle precedenti iniziative all'interno della pagina eventi PIA in cui abbiamo inserito il programma e i materiali di tutti gli interventi oggi l'agenda prevede appunto una breve introduzione di Antonio Rotundo dell'Agenzia per l'Italia Digitale un intervento importante che ci fa il quadro sulla pubblicazione dei dati attraverso le API e il rapporto con la piattaforma digitale nazionale dati di Matteo Fortini passiamo poi al modello di licensing quindi alla fase importante dell'attribuzione delle licenze ai dati che vanno ad essere pubblicati un aspetto molto importante che poi riguarda tutto anche gli elementi e la possibilità di riutilizzo dei dati stessi e chiudiamo con un caso di studio direi nazionale e molto interessante sul riutilizzo dei dati da parte della società civile con Vittorio Alvino che ci presenta appunto un po' le attività della fondazione Open Police basate sul riutilizzo dei dati chiuderemo poi con una breve parentesi di domande e risposte sperando di fare in tempo visto che gli interventi sono importanti e sono appunto numerosi io chiuderei qui l'introduzione ricordo a tutti che il materiale e la registrazione video verranno pubblicati sulla pagina eventi PA dell'iniziativa al termine ovviamente nel primo pomeriggio al termine del webinar quando i colleghi riusciranno a caricarli in piattaforma non prendo altro tempo perché appunto gli interventi sono molti e molto interessanti passerei la parola ad Antonio che ci introduce un po' il webinar e gli interventi e appunto il percorso di attuazione delle linee guida così come lo abbiamo pensato all'interno del webinar Antonio a te la parola Grazie Grazie Ugo Sentite? Sì Ok grazie Ugo di nuovo e buongiorno a tutti allora come come diceva già Ugo con questo webinar chiudiamo questo nuovo ciclo di appunto di appuntamenti relativi agli open data e alle linee guida in corso di adozione è il terzo ciclo di webinar che abbiamo organizzato in meno di un anno da maggio del 2022 intorno appunto alle linee guida per chi ha partecipato ne abbiamo organizzato uno in vista della consultazione pubblica sul testo delle linee guida un altro a fine a fine 2022 e poi questo nuovo ciclo a inizio anno in attesa dell'adozione formale delle linee guida che speriamo di annunciare aspettiamo di annunciare nelle prossime settimane stavamo anche pensando come poi tutti i materiali sono pubblicati nelle varie pagine dedicate ai singoli webinar nelle prossime settimane su dati.gov.it pubblicheremo una pagina in cui inserire tutti i riferimenti dei vari cicli di webinar che abbiamo organizzato in modo tale che chi volesse può ripercorrere può rivedere tutti gli appuntamenti e quindi approfondire i vari aspetti che abbiamo trattato nella riguardo in questo ciclo di questo ciclo di webinar è stato modulato diciamo ad approfondire le varie fasi che abbiamo identificato nel processo di apertura che trovate troverete nelle linee guida e che come abbiamo sempre ripetuto abbiamo adattato da un analogo processo da un analogo modello inserito nel documento del Publications Office della Commissione Europea che gestisce anche il portale europeo data.europa.eu documento che è appunto il Data Quality Guidelines quindi per ogni webinar abbiamo affrontato una o più fasi in particolare nel primo webinar ci siamo occupati a capire quali dati aprire, come identificare quindi i dati di aprire, come definire un eventuale percorso di apertura e come creare i metadati, metadati che abbiamo visto essere coerenti con i due profili nazionali quello per i dati aperti e quello per i dati territoriali. nel secondo webinar poi abbiamo illustrato concretamente alcune esperienze, alcuni esempi di particolari tipologie di dati che vengono definiti, identificati e richiamati nella direttiva open data e quindi poi accascate nel decreto di ricepimento e nelle linee guida quindi abbiamo avuto esperienze su dati dinamici, dati di elevato valore e dati della ricerca e in quel webinar abbiamo fatto anche un accenno, abbiamo illustrato molto sinteticamente le indicazioni presenti nel nuovo regolamento europeo pubblicato proprio a fine gennaio entrato in vigore il 9 febbraio quindi a inizio del mese corrente e che però sarà applicabile poi dal 9 giugno 2024 quindi abbiamo visto che cosa sono i dati di elevato valore quali sono le categorie già definite nella direttiva open data e per ciascuna categoria quali sono i dati da considerare per quelle categorie che dovranno seguire poi le regole presenti in quel regolamento. nel webinar successivo poi ci siamo focalizzati sulle fasi di arricchimento e modellazione quindi abbiamo parlato di semantica, di sintassi perché è chiaro che i dati che vengono resi disponibili come in generale tutti i dati ma specialmente quelli aperti dovrebbero dico sempre dovrebbero perché ovviamente non è sempre così dovrebbero seguire delle regole degli standard condivisi che sono configurati con le ontologie gli schemi dei dati, i vocabolari controllati e così via quindi abbiamo visto che cosa sono questi asset semantici e come eventualmente utilizzarli. nel webinar poi successivo che è il penultimo diciamo quindi la scorsa settimana abbiamo focalizzato l'attenzione sulla qualità dei dati qualità che nel processo di apertura dei dati che abbiamo identificato ovviamente deve essere una fase che è presente poi in tutte le altre fasi nel senso che sia nell'identificazione io posso eventualmente eseguire diciamo un processo di qualità dei dati che sto identificando per aprire che sono già esistenti oppure può essere insito nel processo di creazione quindi nel caso di nuovi dati il processo della fase di validazione dei dati quindi abbiamo parlato nell'ultimo webinar di caratteristiche di qualità quali sono quelle che le linee guida raccomandano di garantire proprio per favorire il riutilizzo e abbiamo anche posto l'accento sulle raccomandazioni che provengono dal documento europeo che citavo prima sui vari formati dei dati aperti. con questo webinar quindi affrontiamo questa fase, quest'ultima fase del modello che è quello appunto di pubblicazione e riutilizzo che cosa prevede una linea guida? ovviamente poi questi aspetti saranno approfonditi nelle tre interventi che eseguiranno ma ovviamente la pubblicazione è l'ultima fase, come abbiamo visto, di un processo che prevede tutte quelle azioni, quelle attività, quelle operazioni che abbiamo descritto in questi webinar in particolare prima della pubblicazione è chiaro che è necessario creare i metadati come da requisiti e raccomandazioni delle linee guida e quindi come dicevo già prima a fare riferimento ai profili di metadati per i dati aperti e o per i dati territoriali di metadati ne abbiamo parlato anche nella fase di identificazione perché la raccomandazione è quella di creare i metadati contestualmente alla produzione del dato proprio perché poi diventa anche complicato recuperare le informazioni sul dato se i metadati vengono creati poi tempo dopo la produzione e la creazione del dato stesso prima della pubblicazione quindi si devono poi definire politiche di accesso e quindi quale licenza applicare e su questo le linee guida forniscono requisiti e raccomandazioni che sono abbastanza credo chiare nel senso che a differenza dei documenti delle linee guida precedenti in questo caso abbiamo definito dei requisiti da seguire nell'apertura dei dati per quanto riguarda le licenze da applicare così come abbiamo approfondito ovviamente non in maniera esaustiva come indicato nelle linee guida tutte le criticità e le problematiche che provengono dalla compatibilità tra licenze e infine ovviamente prima di pubblicare è necessario identificare i canali per la pubblicazione nel senso che ovviamente i dati aperti possono essere resi disponibili come download diretto per esempio su un sito istituzionale oppure può essere creato un portale dati ad hoc oppure ancora per esempio in casa di link di open data può essere implementato un triplo store e l'altra possibilità che approfondiremo nell'intervento che poi seguirà è quello di rendere disponibili i dati aperti attraverso API questa modalità è obbligatoria sulla base della direttiva del decreto di ricepimento per due tipologie di dati quindi dati dinamici e dati di elevato valore però la raccomandazione è di utilizzare questa modalità anche per tutte le tipologie di dati chiaramente quando parliamo di API la direttiva parla esplicitamente di API per queste tipologie di dati in Italia le API fanno riferimento alle linee guida e alle attività che sono in corso tra cui ovviamente la piattaforma digitale nazionale date quindi approfondiremo nel primo intervento proprio questa modalità di pubblicazione e come poi la PDNB favorirà la disponibilità di dati attraverso API un altro requisito e quindi un'altra disposizione che è stata inserita nel decreto di ricepimento è quello che ogni amministrazione debba pubblicare e aggiornare annualmente gli elenchi delle categorie di dati che sono disponibili come dati aperti e quindi disponibili per riutilizzo in questo caso le linee guida semplificano diciamo l'attività dell'amministrazione in quanto siccome è già richiesto che i dati aperti debbano essere documentati nel portale nazionale dati.gob.it sul quale vengono anche pubblicati i dati territoriali documentati nel repertorio nazionale attraverso le API disponibili su dati.gob.it l'amministrazione può pubblicare come nei propri siti istituzionali la query sostanzialmente che fa riferimento ai propri dati relativamente alle varie categorie di dati e per categorie di dati ovviamente sono state scelte quelle relative alle 13 categorie del profilo Dicata PIT che sono comunque mappate con i temi INSPIRE quindi per i dati territoriali proprio perché quelle categorie vengono già utilizzate come classificazioni per i dati aperti quindi nella slide vedete un esempio in questo caso io ho l'elenco dei dati che afferiscono alla categoria ambiente e che sono il cui titolare è la provincia autonoma di Trento quindi in questo modo ogni singola pubblica amministrazione può pubblicare questi collegamenti ipertestuali diciamo ai dati documentati su dati.gob.it assolvendo in questo modo all'adempimento derivante da questo requisito inserito nel decreto è dettagliato e esplicitato ancora meglio nelle linee video con questo chiudo e ovviamente i tre interventi come dicevo grazie Antonio grazie a te grazie dell'introduzione esaustiva chiederei a Matteo Fortini del dipartimento di avviare microfono e webcam eccolo, a te la parola ti ha già introdotto il tuo intervento Antonio quindi non mi dilungo a te l'intervento e la parola, prego grazie, intanto buongiorno a tutti grazie per questa opportunità per raccontare insomma della piattaforma PDND e del progetto di pubblicazione API che si sta realizzando a livello nazionale e appunto mi concentrerò sulla pubblicazione attraverso API e sulla piattaforma digitale nazionale dati che in questo momento da ottobre dell'anno scorso è live e sulla quale si sta trasportando tutto il patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni parto da una visione, da quella che è stata la visione del progetto che è appunto valorizzare il capitale informativo delle pubbliche amministrazioni attraverso l'interoperabilità per servizi pubblici semplici che realizzano il principio once only quindi ovviamente l'obiettivo principale della pubblica amministrazione è fornire servizi fornire utilità per i cittadini e quindi l'obiettivo è questo il principio once only in questo caso viene declinato nel fatto di non dover fornire alla pubblica amministrazione i dati più di una volta quando questi dati siano già all'interno della pubblica amministrazione e valorizzare il capitale informativo è ormai consolidato anche a livello europeo appunto anche nelle linee guida il capitale informativo che è gestito dalle pubbliche amministrazioni per conto dei cittadini è un valore che se viene condiviso realizza sia valore economico che valore di trasparenza quindi ha più finalità e il fatto di poterlo rendere visibile rendere interoperabile quindi utilizzabile da tutti in modo facile diciamo ed efficiente crea appunto questo abilita questa creazione di valore e quindi realizza appunto un miglioramento per tutti l'obiettivo della piattaforma pdnd che è stata istituita nel cad dall'articolo 50 ter nel codice dell'amministrazione digitale è quello diciamo di scalare l'interoperabilità a più di 20.000 enti perché chiaramente gli enti già interoperavano non è che le banche dati fossero gestite tutte in modo primitivo ma c'erano già tantissimi casi di interoperabilità qui si vuole andare a creare un'interoperabilità che potenzialmente va a coinvolgere tutta la pubblica amministrazione italiana che appunto è fatta da più di 20.000 enti quindi la prima cosa è un catalogo di API quindi evidenziare ciò che è disponibile i dati che sono disponibili creare una piattaforma di interoperabilità perché l'altro problema prima c'è un problema di visibilità dei dati il secondo problema chiaramente è la responsabilità su questi dati e quindi garantire uno scambio di dati che sia autenticato, che sia autorizzato e che sia garantito fra le pubbliche amministrazioni questo per semplificare chiaramente anche la burocrazia di queste cose gli accordi di interoperabilità che si erano prima erano realizzati in modo punto punto quindi con convenzioni, con sistemi più diretti più un National Data Catalog per interoperabilità semantica che contiene metadati per descrivere ciò che viene scambiato prima cosa è stato definito da Agid che ne ha la titolarità secondo il CAD in collaborazione col Dipartimento il modello di interoperabilità quindi si definiscono dei modelli sia appunto per avere più sicurezza più standard per scalare e per avere più efficienza una prima interoperabilità è quella tecnica quindi definire standard per comunicare e garantire il passaggio di informazioni in questo caso API e un altro è l'interoperabilità semantica quindi definire standard per documentare queste informazioni perciò ontologie e vocabolari controllati cosa sono le API? le API sono Application Programming Interfaces sono interfacce che servono appunto per la programmazione di applicazioni e sono degli standard di interazione fra sistemi informatici e quindi servono per realizzare interazioni fra sistemi informatici che sono in domini separati quindi ogni dominio mantiene la gestione dei propri dati e di solito in questo caso passano attraverso la rete internet e i sistemi sono eterogenei possono essere gestiti in maniera separata e quindi si possono far dialogare sistemi che stanno in luoghi diversi e in domini diversi sono un'astrazione quindi nascondono quello che c'è dietro di loro non si vede cosa c'è davvero dietro al dominio e permettono quindi di creare delle interazioni che non necessariamente ricalcano i dataset che sono alla base e sono un contratto quindi descrivono ciò che cosa si può fare e come con queste API faccio degli esempi nel mondo reale tanto per darci un'idea una presa USB è una sorta di API ha un'interfaccia standard e non sappiamo cosa c'è si può essere una webcam come una chiavetta come un connettore audio quindi la presa USB non descrive quello che passa ma descrive lo standard di comunicazione fra gli oggetti i connettori per le cuffie che usiamo possono avere microfoni ma non sanno che audio passerà e nello stesso tempo un altro esempio banale che mi viene in mente sono le pompe di benzina e noi quando andiamo a una pompa di benzina sappiamo non sappiamo cosa c'è dietro non sappiamo come la benzina arriva alla pompa quello che sappiamo è che possiamo scegliere uno dei colori e inserirlo all'interno della nostra macchina e andare a fare il riformimento questi quindi sono tutti standard che servono per nascondere quello che c'è dietro e per realizzare la comunicazione nella scelta del modello di interoperabilità queste API sono API web e sono API REST soprattutto e dobbiamo dire che queste tecnologie sono utilizzate nell'industria in modo massiccio quindi quando prenotiamo per esempio un hotel e possiamo vedere i voli e possiamo vedere anche la prenotazione delle auto tutto questo si realizza attraverso l'interoperabilità tramite API dall'altra parte c'è una descrizione invece semantica di questi dati con ontologie e vocabolari controllati perché se abbiamo descritto come parlare dobbiamo descrivere anche in che modo descrivere i dati che utilizziamo in modo possibilmente non ambiguo e condiviso quindi se io passo il nome e cognome di una persona devo sapere se passo il nome se è il primo nome, se è il nome completo se il cognome è il primo cognome sono tutte delle descrizioni che devo fare in modo puntuale le ontologie e vocabolari controllati permettono l'interoperabilità dei dati quindi io posso prendere dati che ho ottenuto attraverso un'API e attraverso un'altra API se questi dati posso descriverli in modo rigoroso posso anche farli interoperare anche la semantica è un contratto quindi descrive che cosa sono i dati che vengono scambiati ed eventuali vincoli e valori che possono assumere per esempio se io ho una vocabolario controllata quindi una lista di titoli di studio io so che se voglio descrivere il titolo di studio in una persona andrò a utilizzare questo vocabolario e non ci saranno dubbi sul fatto che una laurea magistrale sia un certo tipo di titolo di studio che un diploma di scuola superiore eccetera anche se utilizzo appunto il vantaggio dei vocabolari controllati che possono andare a integrare diverse anche interpretazioni di questi valori quando cambiano nel tempo un esempio banale di semantica è l'unità di misura io ho un numero se ho un solo unità di misura con cui è stato misurato so che quel numero sono 30 gradi oppure 30 kg chiaramente sono cose diverse associare quindi una semantica mi permette di dare un valore a questo numero in modo chiaro oppure mi veniva in mente gli elenchi del telefono che sono fatti tutti uguali se io prendo una pagina quando c'erano gli elenchi del telefono se io prendevo una pagina di un elenco di una città o di un'altra il significato dei dati che c'erano all'interno era chiaro e potevo andare a controllarli in modo tranquillo in modo uniforme come funziona la piattaforma PDND è una piattaforma gestita da Pago.pa che contiene un catalogo di API che contiene in questo momento la possibilità di autenticarsi per l'ente erogatore per gli enti fruitori quindi per chi va a erogare API e per chi va a fluire API permette quindi di autenticare questi enti cioè di sapere chi sono i soggetti che vanno a registrarsi sulla piattaforma e in più ha una funzione autorizzativa per l'accesso all'API appunto si diceva che uno dei problemi dell'API è poi verificare chi accede a questi API quindi la piattaforma attraverso un sistema di token quindi una sorta di biglietto che viene fornito al server dell'ente che va a fruire questi dati con questo token il server che va a fruire questi dati si presenta al server dell'erogatore e chiede l'utilizzo dell'API per accedere ai dati questo token ha il vantaggio di essere limitato alla singola API al singolo servizio e di essere limitato nel tempo quindi il token scade e deve essere rinnovato in questo modo cosa succede? Che il server dell'interrogatore può verificare che il biglietto che gli è stato presentato sia relativo al servizio che viene richiesto e non sia scaduto in questo caso quindi il server dell'interrogatore può andare a concedere l'accesso ai dati attraverso l'API questo sistema quindi cerca di limitare la possibilità di attaccarsi di essere attaccati dal punto di vista informatico una cosa da notare è che lo scambio di dati non avviene attraverso PDND ma avviene sempre fra l'interrogatore e l'ente fruttore il vantaggio, la gestione di questi token di autorizzazione e la gestione della richiesta del token da parte del fruttore lo dico in modo per i tecnici spesso viene fatto in modo trasparente quindi è successo che abbiamo sentito più volte che gli enti si sono dotati di un gateway per erogare le API quindi questo gateway è uno strato che si mette davanti al server e gestisce questi token e quindi il server non vede la gestione dei token di PDND e nello stesso tempo la fruttore può avere un proxy che si occupa di chiedere l'autorizzazione a PDND per la gestione non faccio tutta la spiegazione di come funziona la gestione dell'iscrizione attraverso PDND perché questo diventerebbe piuttosto lungo leggo qualche domanda al volo scalabilità vuol dire che praticamente se io ho un'interazione che deve essere fra enti e devo richiedere per ciascuna copia di enti una convenzione con 20.000 enti io rischio di avere o anche solo i 7.900 comuni italiani che devono richiedere l'accesso all'ISEE se dovessero firmare una convenzione per ciascun comune o comunque creare un atto per ciascuno diventerebbe burocraticamente molto complesso l'obiettivo della scalabilità significa creare un processo che possa passare da un numero molto piccolo a un numero molto grande senza diventare ingestibile il catalogo di API è semplicemente una lista, un catalogo simile a quello che si può avere su dati GOV con una lista con la possibilità di ricercare le diverse API che sono pubblicate si l'internet banking può essere, anche le banche utilizzano API chiaramente sia per dialogare fra di loro sia per dialogare con le piattaforme per esempio le carte di credito o i gestori di carte e come dicevo molti utilizzano un API manager non è obbligatorio però si è vero la domanda se è necessario che si dati uno di un API manager è possibile utilizzarlo quindi da una parte il PDND vuole abilitare l'interoperabilità accreditare i soggetti abilitati appunto superare la necessità di stipulare accordi in interoperabilità e rendere disponibile il catalogo di API e poi raccogliere anche un log di quello che si realizza sulla piattaforma non tratta né conserva informazioni scambiate fra gli enti avete visto che è fuori dal percorso non permette accesso diffuso e generalizzato ai dati perché sono sempre gli enti che decidono quali dati pubblicare e la PDND non obbliga gli enti a fornire ai terzi a terzi dati di cui è titolare e non decide né quali informazioni possono essere scambiate né quali condizioni quindi gli erogatori sono sempre titolari e decidono se, chi e perché si accede c'è un termine che è stato definito in settembre di quest'anno perché tutte le banche dati che sono in interoperabilità vengano pubblicate anche su PDND dico anche perché la legge il CAD prevede che comunque si possa continuare a mantenere i collegamenti esistenti per ragioni di compatibilità con l'esistente un passo agli open data gli open data hanno chiaramente ricordo le caratteristiche principali sono che hanno una licenza che ne consente l'uso e la redistribuzione e l'accesso aperto le API per gli open data anche nelle linee guida sono consigliate soprattutto per i dati dinamici sono anche da utilizzare per creare servizi da integrare e per i dati di elevato valore nel regolamento dei dati di elevato valore si utilizzano sempre API il CAD articolo 53 non distingue i tipi di dati quindi non distingue i dati chiusi o dati aperti e grazie a questo progetto si riescono ad avere le caratteristiche fair degli open data quindi gli open data possono essere ritrovabili attraverso il catalogo sono accessibili attraverso le API sono interoperabili grazie appunto all'API e alla semantica e sono riutilizzabili grazie alla licenza e alla semantica che gli è associata in progettazione nella PDND perché utilizzare PDND per gli open data? perché l'obiettivo è pubblicare una volta sola ed essere catalogati dove necessario il catalogo di API avrà una versione pubblica quindi attualmente si può accedere soltanto se sia un ente registrato sulla piattaforma l'inserimento dei metadati nella descrizione dell'API verrà pubblicato poi alle piattaforme appunto dati Gova, repertorio nazionale eccetera si potrà indicare una licenza per i dati e quindi avere un harvesting da parte delle piattaforme già esistenti e rimane la possibilità di usare PDND se si vogliono dare particolari servizi di qualità più elevata quindi magari servizi che devono avere un certo carico per esempio questo schema che poi adesso c'è un piccolo errore ma l'idea è appunto questa che il settore pubblico pubblica sia open data che close data i dati chiusi vengono pubblicati con PDND utilizzando il suo sistema di autorizzazione ma anche i dati aperti dinamici di elevato valore quelli che vengono pubblicati con API andranno sul catalogo API potranno essere caricati i metadati di questi dati che verranno recuperati da dati.gov e geodati.gov e tutte le altre piattaforme i dataset invece possono essere pubblicati con i consueti metodi di catalogo di dati rimane la possibilità di usare PDND per eventuali appunto quality of service o particolari carichi che si vogliano fornire io mi fermo, grazie poi per le domande magari continuiamo dopo grazie Matteo, grazie grazie dell'intervento puntuale di aver rispettato i tempi sì, no, abbiamo molte domande grazie che sei riuscito a rispondere ad alcune in corso d'opera e alle altre poi risponderemo al termine degli interventi passerei la parola ora alle colleghe Laura Corabati e Morena Ragone che ci danno un po' un'illustrazione complessiva in tutti gli aspetti del modello di licensing che è stato indicato ed è suggerito all'interno delle linee guida sappiamo che appunto è una fase fondamentale proprio perché consente poi e autorizza il riutilizzo da parte di imprese, cittadini e di altri utenti dei dati che vengono pubblicati quindi stiamo parlando di un elemento che abilita un certo tipo di riutilizzo piuttosto che un altro naturalmente quindi a voi la parola grazie per l'intervento congiunto credo inizi Morena Ugo a te ci senti? perfetto io vi sento voi mi sentite? sì abbiamo risolto allora anche gli aspetti tecnici le difficoltà tecniche buongiorno a tutti grazie a voi grazie a te Ugo e soprattutto ringrazio anche la collega e amica Laura Garbati con la quale abbiamo avviato un percorso proprio di studio congiunto in tutti questi ultimi mesi per cui insomma questo questo piccolo spazio di oggi è frutto di un lavoro dietro che diciamo si è portato avanti per diversi mesi e spero insomma che possiamo cominciare a vedermi i frutti da adesso e per le prossime attività allora io vorrei innanzitutto introdurre un concetto sotto forma di alert quindi perdonatemi questo gigantesco triangolo più grande non lo potevo inserire all'interno delle slide perché questo era lo spazio disponibile allora l'alert è sul sistema di licensing all'interno delle pubbliche amministrazioni che è un concetto molto spesso posto in secondo piano nel senso che tutti sappiamo che esiste la necessità di verificare il contenuto di licenze, di contratti eccetera ma un po' per abitudine purtroppo abitudine sia a titolo personale che molte volte anche a titolo professionale di andare in estrema velocità nelle attività talvolta non ci consente l'adeguato approfondimento quindi questo l'ho voluto inserire proprio come avvio del discorso attenzione alle licenze parliamo ovviamente di licenze dati nello specifico ma parliamo anche in generale di licenze sul software perché ci sono delle regole precise che è bene conoscere per evitare poi di incorrere in errori o in difficoltà all'interno del nostro inter perché dico all'interno del nostro inter perché partendo da questa immagine quindi il percorso che va dalla scelta alla pubblicazione del dato che ormai conosciamo tutti benissimo perché Antonio Rotundo ci ha mostrato tante volte ci ha sottolineato ogni volta singoli aspetti io ho evidenziato qui due momenti differenti un primo momento è quello dell'analisi dei vincoli e un secondo momento è quello delle politiche di accesso e licenza ed è la fase nella quale virtualmente ci troveremo oggi in questo quinto webinar a chiusura di tutto il percorso di approfondimento sui dati aperti perché io però ne ho segnati due perché in realtà nell'analisi dei vincoli va assolutamente inserita anche la verifica delle licenze dei dati o dei data set in generale che noi stiamo utilizzando perché la mancata analisi in quella fase se voi riprendete le linee guida la bozza delle linee guida e comunque vedrete poi nelle linee guida una volta adottate c'è una sorta di checklist che è inserita all'interno delle linee guida e che valuta e verifica anche questo aspetto da non rimandare a nostro avviso soltanto in fase di pubblicazione perché si potrebbe arrivare tardi quindi si potrebbe arrivare in un momento in cui in realtà le scelte sono già state fatte e soprattutto le attività le energie, le risorse sono state spese allora non a caso noi parliamo di una apertura by design cioè le politiche devono essere stabilite avendo riguardo a due elementi in particolare la titolarità dei dati perché ovviamente anche in questo caso si pongono una serie di problematiche che non possono essere risolte a valle di una procedura ma il secondo aspetto molto importante è la definizione della strategia dell'amministrazione perché non basta il volere ma è necessario predisporre le fasi perché questi desiderata possano poi realizzarsi in attività concrete, vere e proprie allora, riassumendo in maniera estremamente sintetica voi sapete che nelle linee guida Agile ci sono alcuni allegati che aiutano la lettura di quello che le amministrazioni devono o non devono fare oppure possono e non possono fare quindi queste sono state riassunte in due allegati che sono quello dei requisiti e quello delle raccomandazioni ovviamente come dicono i termini stessi requisiti sono obbligatori per le amministrazioni in tema di licenze noi abbiamo evidenziato che le amministrazioni non devono utilizzare licenze che non consentano opere derivate o uso commerciale va da sé che sono contrarie alla definizione di dato aperto quindi può essere open data soltanto quello che è totalmente privo di vincoli tranne l'unico vincolo che conosciamo diciamo generalmente accettato è quello dell'attribution quindi il riconoscimento dell'autore tra virgolette di quel dato, di quel dataset eccetera e ovviamente di conseguenza le amministrazioni non devono utilizzare licenze di tipo proprietario quindi restiamo nell'alveo delle licenze standard di tipo aperto ma le amministrazioni devono anche fare un'altra cosa che è quella suggerita all'interno delle linee guida ma da tutta la regolamentazione degli ultimi tempi e diciamo ci possono venire in mente una serie di atti regolamentari dell'Unione Europea ma non solo che è l'applicazione della licenza CC BY nell'ultima versione disponibile oggi è la 4.0 però ovviamente questo tipo di processo evolve e si va raffinando sempre di più per cui ovviamente noi ci riferiamo all'ultima versione disponibile e questo è un ragionamento da applicare in senso generale sui dati nativi quindi i dati che l'ente forma, produce, raccoglie normalmente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali primo aspetto fondamentale per quanto riguarda invece ora vi faccio diciamo questo ulteriore alert importante in assenza quindi in mancanza della licenza c'è comunque sempre nei requisiti quindi obbligatorio il richiamo al principio dell'open by default che è previsto dall'articolo 52 del CAD ormai ha 13 anni penso che tra qualche giorno compie 13 anni ed è un principio molto molto sottovalutato perché ci dimentichiamo di esercitarlo e questo lo dico non tanto e non solo come funzionario pubblico ma lo dico anche e soprattutto come attivista sui dati aperti quindi ricordiamoci che c'è un principio di open by default per cui l'amministrazione applica la licenza prevista da linee guidaggi o le licenze previste da linee guidaggi ora vedremo meglio e qualora non lo faccia se il tipo di dato, il tipo di documento, i dataset non sono sottratti dal punto di vista regolamentare alla diciamo pubblicazione in formato di dati di tipo aperto ecco che entra in diciamo in azione il principio dell'articolo 52 del CAD e questo ricordiamocelo sempre appunto come dicevo prima è fondamentale andiamo poi sempre proseguendo sui requisiti la scelta compiuta all'interno delle linee guida è stata quella di prevedere la possibile adozione non solo della licenza CC BY dicevamo prima 4.0 ma anche della CC 0 quindi qualora non sia scelta una di queste licenze c'è un obbligo di motivazione la motivazione l'obbligo di motivazione meglio non vale quindi non è richiesto nel momento in cui è applicata una licenza equivalente o meno restrittiva rispetto a quella indicata nelle linee guida l'esempio che noi abbiamo portato e lo vedremo anche all'interno delle matrici è quello della CDLA permissive 2.0 che è una licenza sostanzialmente analoga alla CC 0 per cui in realtà non è necessario esplicitarla o perlomeno giustificarla in un qualche modo proseguendo ancora c'è un altro ennesimo alert stiamo ragionando molto in queste ultime settimane delle high value dataset quindi dataset a elevato valore e all'interno del regolamento che ricordo è il 138 del 2023 quindi adottato da pochissimo in realtà è specificato che le uniche tipologie di licenze previste per questi dataset e sono la CC by 4.0 o la CC 0 ma è prevista la compatibilità con licenze equivalenti o meno restrittive stranamente è la stessa terminologia che avevamo già inserito all'interno delle licenze delle linee guida agit per cui diciamo ci troviamo in consonanza perfetta anche con quello che è previsto a livello centrale di regolamentazione europea velocemente le raccomandazioni sono dei suggerimenti alle pubbliche amministrazioni non non imperative non obbligatorie ma come direbbe qualcuno caldamente raccomandate ve le leggo in maniera molto sintetica restringere le condizioni di licenza alla sola attribuzione l'abbiamo detto l'unica restrizione condizione ammessa è CC by quindi attribution altrimenti l'applicazione di licenze meno restrittive quindi limitare all'indispensabile licenze con previsione di condizioni ulteriori limitare quindi anche in questo caso c'è un cambio di orientamento di cui parlerà meglio Laura tra poco l'uso della clausola di condivisione share like quindi in realtà utilizzabile soltanto qualora non sia possibile applicare la CC by quindi la semplice attribuzione non utilizzare versioni della CC by precedenti la 4.0 perché potrebbero creare problemi per esempio per il diritto sui generis evitare le licenze non transnazionali noi pensiamo sempre alla IODL 2.0 ma in realtà ogni paese membro potrebbe fare lo stesso ragionamento analogo su licenze che non hanno la capacità di imporsi a livello generalizzato in tutti i contesti e in tutti i paesi e valutare anche il rinnovo delle licenze che sono attualmente in uso vi lascio con questo ultimo riferimento che ora Laura approfondirà perché il ragionamento sulle matrici la matrice 1 sull'opera derivata e la matrice 2 sul mashup in realtà nasce da un'immagine che voi sicuramente conoscerete che è stata inserita nelle linee guida credo dal 2014 se non ricordo bene che ci aiutava, ci guidava nella valutazione della compatibilità tra le licenze noi abbiamo fatto un'operazione di approfondimento che Laura Garbati spiegherà e a cui lascio la parola e vi ringrazio grazie mille Morena cerco di cavarmela nel tempo giusto che abbiamo ma non posso che permettere anch'io il ringraziamento a Morena che è sintetico solo per il tempo ma è profondamente sincero e sentito come anticipava la collega lo sforzo è stato andare oltre il primo schema distinguendo due macrotipologie torno solo un secondo indietro cioè la casistica in cui si prenda un database o una parte sostanziale del database e le si aggiunga qualcosa ripubblicandolo quindi abbiamo quello che è un po' impropriamente ma non è certo il contesto per andare nel dettaglio di questi profili che pure hanno un peso un'opera derivata parto da qualcosa di originale e ci aggiungo o il cosiddetto mashup cioè prendo due dati, due database esistenti estrago una parte sostanziale di questi due, li mescolo e li ripubblico cosa succede? Lo posso fare non sempre e non sempre lo posso fare come voglio io questa è un'anteprima insomma delle matrici come le troverete le abbiamo prodotte mi preme sottolineare due profili iniziali uno ci sono ancora licenze che evidentemente sono state sconsigliate o non scelte ma perché? perché non possiamo non pensare che ad oggi la situazione, il panorama dei database esistenti trova ancora queste licenze messe a disposizione chiaramente la tensione è verso una semplificazione un'omogenizzazione e per questo anche c'è un colpo d'occhio che speriamo possa essere motivante una scelta omogenea e semplificata cioè il convergere verso la ci ci va e la ci ci zero è anche motivata dalla semplicità di riutilizzo la fluidità di riutilizzo che per i dati è un elemento essenziale e ci torneremo due principi uno come vedete allora abbiamo nella colonna iniziale la licenza dell'opera originaria nella riga orizzontale in grigio la licenza con cui si può uscire il verde quando la possibilità è quella di uscire con una delle licenze adottate come vediamo la cc0, la prima riga è amica di tutti quindi se prendo un database in cc0 posso rilasciarlo senz'altro in ccby è compatibile questo è anche un suggerimento importante perché in quel concetto strategico che abbiamo già toccato dell'open by design sta anche una valutazione strategica di qual è la licenza con cui uscire nell'ottica della natura del dato e quindi della magari maggiore utilità come ha fatto la commissione vedremo nel 2019 ha scelto la ccby indicando però che per i dati rav era la cc0 perché prioritaria la riutilizzabilità ciclica rispetto magari a un attribution l'altro punto molto importante sempre in ottica strategica è che il tema come nel software libero il concetto di compatibilità tra licenze che vuol dire mescolo due licenze posso uscire con una licenza non è bidirezionale ad esempio la cc0 e la ccby possono essere mescolate rilasciate con una share like che è virale che implica che le altre ridistribuzioni debbano avere la stessa licenza non vale l'altrettanto se vado a riutilizzare una licenza share like non potrò uscire con cc0 o ccby rimarrà un vincolo quindi questo è un altro profilo importante questo invece è un tema un po' più complicato dove però vedete il colpo d'occhio continua a ricordarci come converge verso by cc0 ci permette un lago tranquillo di navigazione qui abbiamo la casistica in cui io mescolo due database esistenti e le questioni possono diventare più complesse molto rapidamente highlights ho citato il caso dell'open street map foundation perché il dato geografico che per come ho compreso pazientemente mi hanno anche spiegato i colleghi tecnici è forse il dato che più si presta a un riutilizzo ciclico periodico mescolato aggiornato in questo contesto ehm la soluzione share like spesso è complessa e eh la confronto fra licenze non omogene e uniformi può comunque creare dei profili di incertezza open street map foundation penso che la conoscete tutti è un database una community database geografici ha scelto l'odbl che è una licenza nata appositamente per i dati che ha una condizione share like in questo contesto la l'open street map foundation ha portato avanti una analisi accurata della compatibilità dei database rilasciati con cc by 4.0 e le proprie licenze concludendo che non c'era garanzia che ci fosse piena compatibilità tanto è vero che chiede anche alle pubbliche amministrazioni il rilascio della cc by con una exception a favore dell'osma questo comunque crea profili di incertezza che nella pubblica amministrazione al peggio rallenta alla meglio rallentano al peggio bloccano altro punto di attenzione che si collega a quello che richiamavamo prima circa l'opportunità di adottare una strategia pensata rispetto alla tipologia del dato lo stack of attribution abbiamo ipotizzato qui vedete il cerchio giallo la il mashup tra una licenza cdla che sostanzialmente è un waiver con richiesta di portare di richiamare il testo della licenza e la cc by la stessa lignus foundation che è la fondazione che ha prodotto la cdla cioè si lo puoi rilasciare in cc by ma devi richiamare il testo della mia licenza ora pensate questo a scale progressivo stack of attribution è il problema di una database meshato non so se esiste il termine chiedo perdona alla treccani eh pubblicato pubblicabile ma di cui poi bisogna tenere il filo d'Arianna un po' com'è i cognomi messicani no? chi leggeva Zagor io sono vecchia c'era Cico che aveva l'amico di Zagor una marea di cognomi si rischia questo che comunque di nuovo crea una difficoltà gestionale infine abbiamo detto più volte ma perché lasciare like? no lasciare like vuol dire prendi il mio database lo puoi rilasciare ma alle stesse condizioni il motivo del lasciare like è virtuoso si vuole anche come nel software libero al coffee left si voleva evitare che qualcuno tra virgolette si appropriasse di uno sforzo messo a disposizione della collettività ma non mettesse a sua volta a disposizione le sue aggiunte ma forse è un tema superato quando tutta la pubblica amministrazione è chiamata già dalla legge a rilasciare in open data forse è il momento magari anche con altre grandi community che ancora hanno la scelta share like per una protezione verso il privato soprattutto un dialogo diverso un dialogo bidirezionale un dialogo a direzionalità inversa in cui sia possibile come dire fondarsi su questa sorta di copyleft giuridico diciamo no legal by default e l'altra idea che accenno qui che avevamo già accennato in alcuni contesti è che per massimizzare la comprensibilità la rapidità la semplicità di riuso può sempre pensarsi di anche convergere verso una sorta di identificativo un marchio l'ho detto cc by by public administration come io intendo le condizioni della anche della credit commons by ma perché questo perché e il messaggio che mi piacerebbe lasciarvi anche questo non perdervi nella marea di licenze ma ricordare semplicemente e portarsi a casa la sensibilità che queste licenze sono tutte autorizzanti di utilizzo ma il punto è che sono contratti negozi con delle condizioni spesso diverse e non sempre pianamente compatibili fra di loro troverete nelle linee guida questa matrice che cerca di richiamare alcuni principi uno ad esempio un minuto non possiamo andare oltre ma è quello del digital rights management la creative commons by tra le condizioni ha sia l'attribution nel richiamare la fonte non distinguiamo insomma in questo momento l'autore il titolare ma anche non porre digital rights management cioè limitazioni tecnologiche all'accesso to cure l'ODBL prevede la possibilità di rilasciare i con DRM a condizione che una coppia si è rilasciata senza DRM e già solo questo principio può creare dei dubbi di compatibilità in caso di mashup allora qual è il punto? ci sono licenze più adatte di DLA un concetto interessante perché non va a coprire le proprie condizioni il risultato dell'uso computazionale quindi pensa agli algoritmi di intelligenza artificiale ma convergere in questi contesti è meglio che emergere con la licenza migliore perché nella convergenza c'è l'effettivo sblocco delle potenzialità allora l'altro tema importante queste matrici non sono certamente scritte nella pietra delle tavole mosaiche sono un supporto una bussola un orientamento i casi sono tanti l'invito è verificare sempre caso per caso se ci sono specificità anche perché le interpretazioni sono molteplici io ricordo sempre un caso cito diverso così non entriamo qua nello specifico la GPL2 nel software libero e la Apache 2.0 la Free Software Foundation ne sosteneva l'incompatibilità la Apache Foundation diceva che erano compatibili alla fine si sperava nel come dire nella trasse della comunità quindi è una prima bussola in casistiche ma è soprattutto non è una fine ma un inizio c'è l'auspicio nostro eh nostro di Morena di tutti è che si possa iniziare a ragionare per renderla ancora più perfettibili precise ehm dettagliate quindi è ehm un un laboratorio che vorremmo che continuasse ecco questo sempre per supportare quella semplificazione che anche il colpo d'occhio e i colori dovrebbe suggerire perché gli open data non devono diventare una burocrazia sono ben consapevole che se tutte le volte che si riutilizzano dei dati si devono consultare l'ufficio legale che poi ti dice sempre dipende ehm si blocca tutto cioè l'obiettivo qua è liberare l'energia che gli open data sono veramente quindi aprire secondo uno standard in comune è veramente il trigger fondamentale per poter eh diventare credibili ed eccoci quindi scegliere la cc by 4.0 la cc 0 o la cd a che abbiamo citato anche per affetto garantisce intanto a voi pubbliche amministrazioni di rispettare in un colpo solo tutta una serie di normative perché non le abbiamo viste non c'era il tempo non era l'obiettivo ma c'è la trasparenza c'è la normativa sull'ambiente sono tutti i principi di accessibilità che l'open data garantisce facilita la convergenza verso dataset coordinati e migliorati perché poi alla fine c'è sempre il concetto anche il prodotto il mio gollum il mio anello il mio database ma nel riutilizzo ti tornano aumentati pensate al dato geografico quanto avrebbe senso la convergenza complessiva per gradi di scala quindi semplifica il riutilizzo perché sai già come procedere e quindi promuove un circolo vittuoso e non solo nazionale perché abbiamo già citato più volte la Commissione Europea nel 2019 ha scelto la CCBI o la CC0 i dati del elevato valore li abbiamo appena richiamati quindi andiamo anche a guardare oltre il confine insomma compattarsi in unico standard permette anche quel dialogo con le community che ci presenta la pubblica amministrazione come un unicum stabile credibile che metti in pratica quindi chiudiamo come abbiamo riepilogato è essenziale partire con una strategia by default perché? perché se io faccio il database e poi mi preoccupo delle licenze scopro troppo tardi che il lavoro che ho fatto magari non lo posso pubblicare non lo posso pubblicare come lo vorrei questo è fondamentale quindi occhio alle fonti partire by design ragionare con la strategia a seconda della tipologia cercare di standardizzare e semplificare che è più importante ancora di scegliere la licenza più bella e cercare magari anche partendo da questi confronti una competenza coltivata che cresca anche in collaborazione fra gli enti magari per riuscire anche a parlare con le realtà già esistenti degli open data sempre in un'ottica di circolarizzazione e ancora più spinto riutilizzo spero di aver sforato non troppo ecco ma io vi ringrazio grazie grazie pochi minuti non è un problema ma il tema è delicato come abbiamo visto come avete evidenziato mi è piaciuto molto l'immagine dello slalom che da perfettamente come dire un'iconografia del percorso a ostacoli che le amministrazioni hanno proprio perché appunto gli impatti e le conseguenze giuridiche e amministrative dell'attribuzione della licenza impatta in maniera rilevante sulle autorizzazioni che le amministrazioni attribuiscono a quei dati di essere riutilizzati oppure meno quindi è un percorso che sicuramente approfondiremo ulteriormente nei prossimi mesi ed è un tema che ovviamente è anche molto work in progress è molto dinamico nella sua nella sua evoluzione chiederei ora a Vittorio Alvino l'ultimo intervento della fondazione di Openpolis di avviare la webcam e il microfono che ci racconta un po' la loro esperienza di utilizzo sui dati che ci sono o meno interessanti pubblicati dalle amministrazioni grazie Vittorio non mi dilungo a te la parola grazie grazie per l'invito grazie per la possibilità di partecipare a questo evento che è molto interessante dove noi portiamo come Openpolis appunto il punto di vista di quelli che sono gli utilizzatori dei ehm dei dati pubblici in genere Fondazione Openpolis eh sin dall'inizio ha nella sua missione ehm l'obiettivo di eh utilizzare di raccogliere utilizzare dati pubblici questa è un po' la filiera del dato che noi utilizziamo ehm le prime mosse della di quella che era associazione Openpolis poi diventata fondazione appunto partivano dalla da questa che per noi è la materia prima eh individuare dei dei dataset dei dati eh pubblici mh e su questi costruire appunto una una filiera di eh di produzione che è una filiera di valorizzazione ehm dei dati che eh appunto parte dall'individuazione di queste di questi dataset da ehm la loro estrazione e ehm poi trattamento trattamento che significa molto spesso andare a a lavorare un po' su quella che è la qualità del dato che in partenza normalmente non è non è perfetta e poi mettere in relazione eh i dataset un dataset estratto con altri dataset in maniera tale da appunto produrre informazione conoscenza nuova e poi appunto una volta realizzato questo questo processo distribuire il valore creato in termini di informazione in termini di conoscenza su ehm diversi diverse produzioni e diverse ehm realizzazioni che sono sia quelle della ehm dell'informazione canali di informazione che sono appunto la ehm canali social newsletter eh in particolare il magazine online che è la nostra produzione di di data journalism cioè di un giornalismo di un'informazione eh basato su dati ma anche e anche direi questo è stato un po' la la nostra prima esperienza un riutilizzare dati pubblici per mettere a disposizione della cittadinanza di chi fa informazione di chi fa attivismo civico e politico attraverso delle applicazioni cioè delle piattaforme online che rendano questi dati ehm più intelligibili più accessibili e quindi esplorabili e eh e anche scaricabili bene quindi eh fondamentalmente il eh l'universo dei dati dei dei temi di cui ci occupiamo sono principalmente quelli che hanno a che fare con con il eh il potere eh la politica la politica istituzionale eh parlamentare in primo luogo ma anche ehm governativa ehm temi che hanno a che fare con la società con ehm con eh l'economia come appunto eh ambiti che riguardano l'immigrazione la scuola la la finanza locale ehm ma anche appunto eh ambiti che riguardano l'utilizzo delle risorse pubbliche e quindi eh i eh i contratti pubblici e eh i finanziamenti europei e in ehm eh in ultima istanza il PNRR che è appunto uno di quegli ambiti su cui eh di cui ci siamo in particolare occupati ehm negli ultimi anni e che è uno dei casi che eh che vi presenterò eh come sapete il 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 portale eh della pubblica amministrazione il portale del del governo eh individuato come la porta di accesso ehm per la pubblicazione delle informazioni cioè informazioni istituzionali ma anche dei dati e dei documenti riguardanti il PNRR è il il sito eh Italia Domani eh che è appunto un caso problematico qui entriamo come dire nella ehm nella realtà vera eh sinora mh trattando di linee guida giustamente si e si sono individuate quelle che la realtà come dovrebbe essere e come sperio eh diventerà alla quale si adegueranno la maggior parte delle pubbliche amministrazione noi ci occupiamo in questo caso delle realtà com'è e cominciamo appunto da un caso eh abbastanza difficoltoso perché è così importante questo caso perché abbiamo a che fare come sapete con quello che è il eh eh il il programma di investimenti di riforme di investimenti che è stato dichiarato essere il eh il più importante degli ultimi decenni quello destinato a modificare a trasformare eh il il nostro paese quindi aprire delle chiavi eh di sviluppo eh a favore delle eh delle prossime generazioni quindi una trasformazione radicale un investimento ehm eh quantitativamente qualitativamente molto molto rilevante eh buona parte del quale mh produrrà e produce anche debito per le attuali future generazioni quindi un tema rispetto a quale i dati e la disponibilità dei dati sono evidentemente di importanza strategica ora il il PNRR è stato ufficialmente avviato nella eh a giugno del ehm del duemilaventuno ehm e ehm come dire tutti eh gli operatori tutti tutti i soggetti interessati tutti gli addetti ai lavori eh erano attendevano dalla più o meno da subito dai primi mesi appunto disponibilità di dati di documenti di informazione sull'avvio e il e il monitoraggio e l'attuazione di eh di questo piano eh le prime pubblicazioni la prima pubblicazione di eh di dati sul portale di dati a domani è venuta ad ottobre del eh duemilaventuno quindi qualche mese dopo l'avvio ehm ehm ed è stata da subito una ehm una pubblicazione che ha posto dei degli evidenti problemi per chi come noi eh attendeva questi dati per poterci eh lavorare di quali dati parliamo? Parliamo eh sostanzialmente all'inizio di dati che ehm sono fondamentalmente il ehm l'anagrafica eh delle misure cioè l'anagrafica il immaginate una sorta di come dire di elenco telefonico eh codificato eh con eh codifica univoca per ciascuna misura cioè per ciascuna riforma o investimento previsto all'interno del eh del PNRR eh quindi diciamo dati eh abbastanza essenziali cioè il ehm le premesse per per creare un sistema informativo ebbene questi dati questa anagrafica questo elenco semplice con l'indicazione delle delle misure con la denominazione la codifica e eh in caso di investimenti importi relativi per tutte le misure sottomisure ebbene questo elenco ehm era mh un elenco assolutamente inconsistente cioè eh il mh le codifiche non non erano univoche eh e gli importi eh non corrispondevano cioè la somma non non faceva il totale ecco che noi siamo abbiamo raggiunto appunto sulla sul nostro magazine online andando a pubblicare mettere a disposizione nell'analisi di quali problemi questi dataset eh hanno eh riscontrato eh sono è passato del tempo e questa prima pubblicazione questi questo primo dataset è stato eh rimosso ne sono stati eh sostituiti degli altri anche questa è un'operazione che eh è particolarmente problematica perché insomma nel momento in cui si mettono a disposizione dei dati evidentemente non sufficientemente controllati eh si rilevano dei dei problemi eh se poi vengono eh svolte delle operazioni successive cioè sostituiti aggiunti dei dati di questo bisognerebbe dare come dire conto ehm eh e questo non è stato fatto sono stati pubblicati degli altri dataset e diciamo che i problemi che avevamo riscontrati non sono non soltanto non erano risolti ma in alcuni casi anche amplificati eh stesso problema di pessima qualità della eh dell'informazione ancora dei dei codici che univuxi eh non erano e anche appunto problemi sulla eh sugli importi eh sono poi trascorsi diversi mesi eh questi eh questi datatet eh sono stati eh anche qui eh sostituiti rimossi eh aggiornamenti senza 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 un tracciamento della eh di questi avvicendamenti e quindi abbiamo eh deciso di di fare una ehm un accesso eh ai dati un accesso agli atti cioè di richiedere attraverso un foia ehm almeno i dati essenziali per poter ehm svolgere un un monitoraggio e eh devo dire che la eh c'è stata una risposta nei tempi previsti entro i trenta giorni ehm e finalmente siamo riusciti ad avere a disposizione noi come quel polis ma diciamo tutta la eh eh tutto il paese ehm tutto quella eh quel paese eh che eh con i dati lavora e che ehm basa le proprie attività appunto su sistemi informativi siamo riusciti ad avere eh almeno quell'anagrafica ehm completa ehm 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 e e e e e e utilizzabile con eh gli importi corretti e da questo momento in avanti è stato possibile come dire costruire un sistema informativo. Ehm ehm faccio notare che ehm il ehm la richiesta di ehm di dati ehm è basata anche eh non soltanto sulla come dire un diritto all'informazione eh e un diritto alla ehm all'accesso ehm alle informazioni che riguardano l'utilizzo delle risorse pubbliche e quindi sono dati che eh necessariamente devono ehm essere eh pubblici e pubblicati ma anche al fatto che il ehm il ehm nella normativa del PNRR è previsto esplicitamente un obbligo di pubblicazione dei dati sia dei dati di cui stiamo parlando che poi sono stati pubblicati ma anche di altri ulteriori dati cioè tutti quei dati che attraverso una piattaforma che si chiama Regis la Regeneria Generale dello Stato eh eh deve raccogliere da tutti gli enti eh attuatori e beneficiari eh per eh per poter svolgere attività di di monitoraggio e di controllo non soltanto delle misure e della loro del loro stato di avanzamento ma anche proprio dei dei singoli progetti e qui appunto veniamo a ehm dei ehm dei problemi cioè il il fatto che una volta pubblicate le anagrafiche poi sono mh seguite delle pubblicazioni che riguardano ehm l'andamento eh e dell'attuazione delle misure cioè il le scadenze eh il rispetto delle scadenze con eh una periodicità molto problematica ogni quattro mesi ogni sei mesi quindi ricordate che eh il la la dinamica del del piano è tale per cui eh l'Italia deve fare eh delle eh rendicontazioni su base semestrale soltanto se questi eh questi eh questi rendicontazioni dimostrano che eh tutte le scadenze previste per quel periodo eh sono state rispettate allora c'è l'erogazione di fondi quindi insomma è un tema ehm eh e la disponibilità dei dati e la disponibilità oggettiva e anche tempestiva di informazioni che riguardano le scadenze è una questione politica eh eh economica ehm di grande rilievo ehm diciamo che questa pubblicazione eh eh la pubblicazione di di questa tipologia di dati è avvenuta ma insomma con una periodicità problematica eh quello che non c'è tuttora sono dati altrettanto essenziali che riguardano alla pubblicazione dei progetti cioè eh l'ultimo stato di di attuazione ehm che cominciano ad essere però decine di eh di migliaia di progetti bene eh questi dati oramai ad oggi siamo ehm quasi a due anni dall'avvio del piano eh i dati relativi ai progetti e i dati eh ossia un dataset relativo ai eh bandi ancora ad oggi non ci sono cioè non ci sono le condizioni per poter svolgere effettivamente un'attività eh di monitoraggio ecco perché pochi giorni fa insieme ad un'altra serie di associazioni abbiamo ehm abbiamo eh fatto un eh prodotto un secondo foglia cioè una seconda richiesta di accesso ai dati per richiedere finalmente la pubblicazione di queste informazioni che il governo avrebbe dovuto obbligatoriamente produrre già eh da molto tempo quindi eh ancora come dire un un sistema informativo come tale ehm ancora ancora non è stato eh non è stato prodotto e messo a disposizione dalla eh dal governo e dalla regioneria generale dello Stato. Che cosa facciamo noi con ehm dati eh di questo tipo? Abbiamo fatto questo un'esemplificazione di un tipo di riutilizzo di eh di dati pubblici o se volete in parte di produzione di eh di dati pubblici in sostituzione alla stessa eh pubblica amministrazione abbiamo prodotto questo portale che si chiama openpnrr.it ehm che ehm eh raccoglie dati in parte quelli disponibili utilizzabili dalla dal portale Italia Domani ma anche da altri ehm eh portali e siti della pubblica amministrazione dei governi delle regioni degli antietuatori raccogliamo dati e documenti mh per eh eh costruire un nostro sistema informativo e eh metterlo a disposizione eh come eh strumento di monitoraggio per eh per la cittadinanza per chi fa informazione per chi fa attivismo civico e politico. Quindi chiunque può ehm registrarsi a questo sito e eh eh selezionare quale oggetto, quale misura, quale investimento, quale territorio o quale tema gli interessa ricevere aggiornamenti sullo stato di avanzamento eh di questi oggetti direttamente in casella di posta elettronica. Abbiamo mh elaborato degli indicatori che consentano di che consentono di ehm ehm misurare e verificare l'andamento, lo stato di attuazione di riforme e di investimenti eh non mi dilungo per chi è interessato può appunto andare sul sito openpnrr.it ehm cosa molto importante è che visto la deficienza e eh come dire il il ritardo nella disponibilità dei dati da eh nel nel portale di Italianomani il monitoraggio anche delle scadenze lo produciamo con ehm un nostro metodo e con eh nostre fonti che sono sempre fonti ufficiali eh e eh mettiamo a disposizione tutti i dati in una sezione open data del 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 sito che eh che mette eh a disposizione che pubbliche i dati sia informato CSV sia informato eh sia attraverso le API si parlava prima delle API che sono una modalità ehm preferenziale per per i programmatori ecco sul ehm sito di Italia Domani non esistono API esistono ehm nel migliore dei casi soltanto di ehm CSV con dei problemi con dei limiti che diciamo in qualche modo noi eh attraverso il nostro sforzo di piccolo ente non profit riusciamo a produrre un tipo di informazione di servizio pubblico che in qualche maniera si sostituisce anche a quella della della pubblica amministrazione ma non ci sono soltanto casi eh difficili come quello della ehm della della ehm di Italia domani e e che speriamo eh si risolverà nei nei prossimi mesi ci sono anche casi eh che diciamo virtuosi come ehm quelli rappresentati dalla eh sito di ehm eh della della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica eh su cui eh di cui noi ci come dire siamo siamo stati dall'inizio e siamo tuttora tra i principali utilizzatori perché prima ancora che ci fossero eh che fossero aperti dei eh delle sezioni open data eh del eh del sito di di Camera e di Senato noi abbiamo sviluppato un' applicazione che si chiama Open Parlamento che faceva lo scrapping cioè estradeva i dati dalle pagine dei siti internet del di Camera e di Senato per poi produrre anche qui un'applicazione che è open parlamento punto it che mette a disposizione questi dati in una modalità ehm eh rivolta ai ai cittadini agli organi di informazione e e e attivisti cioè in una modalità più accessibile eh il sito di Camera ehm e di Senato sono sono questi qui ehm eh sono eh siti che mettono a disposizione pressoché tutte le informazioni tutti i dati eh realmente eh interessanti e con una eh aggiornamento e con formati e con licenze che sono mh eh quelle adatte parliamo di di Sparklepoint cioè parliamo di eh di di eh del del livello più alto di di accessibilità di apertura dei dei dati e questo ehm ci consente di sviluppare adesso una seconda edizione della nostra applicazione OpenPNR ehm Open Parlamento scusate ehm con uno sforzo infinitamente più più accessibile più basso rispetto a quello che abbiamo dovuto fare all'inizio nel duemila e nove quando questi eh eh questi dati eh non esistevano non esistevano con questa disponibilità quindi un immenso ehm valore per chi riutilizza questi dati eh per qualunque finalità eh eh nel momento in cui sono pubblicati in in una modalità di questo tipo eh queste sono delle ehm delle delle informazioni che pubblichiamo in openparlamento.it attualmente questa qui è una versione ferma alla legislatura precedente quindi mh anche qui strumenti di eh di monitoraggio che consentano a a alla alla cittadinanza di eh poter seguire l'attività di un singolo parlamentare, poter seguire eh gli esiti di un singolo eh disegno di legge, di una tematica eh eh oppure eh eh per primi abbiamo pubblicato il formato eh leggibile, intelligibile, gli esiti delle votazioni, queste chiaramente sono stati eh ehm sono informazioni che hanno avuto una larghissima diffusione degli organi di informazione presso la cittadinanza perché hanno consentito per la prima volta di andare a individuare no il il l'effettivo voto del singolo parlamentare in una eh in una singola votazione importante ehm siamo stati mh tra i primi ad andare a a conteggiare i cambi di gruppo e sapete questo è stato una eh un fenomeno che è stato che è esploso nelle ultime legislature e così via. Insomma per dire le le potenzialità di utilizzo e di riutilizzo del eh 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 del dei dati pubblici nel momento in cui questi sono accessibili. Ehm l'altro caso sicuramente ehm virtuoso e positivo è quello rappresentato da ehm eh da ANAC, dal portale della trasparenza di ANAC, in particolare dalla banca dati eh delle ehm dei contratti pubblici di NCP ehm 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 da un po' di tempo anche qui eh il il sito, la sezione open data della eh dell'anticorruzione è stata è stata completamente rinnovata eh non abbiamo a che fare con delle API quindi dei servizi più avanzati per programmatori ma insomma con eh dei dati ehm comunque aperti messi a disposizione in maniera opportuna ehm eh su tutti quelli che sono i contratti pubblici e e devo dire anche con eh buon aggiornamento. Ehm il problema in questo caso eh per questi dati è rappresentato semmai dalla dalla eh dalla fonte cioè molto spesso mh sono le pubbliche amministrazioni cioè sono le 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 stazioni appaltanti le fonti dei dati e ehm ehm eh il ruolo di ANAC è quello di raccogliere questi dati e mettere a disposizione un portale unico mh molto spesso i problemi sono appunto registrati alla fonte se ci sono dei dati mancanti questi sono quelli molto spesso ehm guarda caso non non obbligatori facoltativi ehm eh che devono essere eh inseriti dalle stazioni appaltanti. Anche qui ehm eh attraverso eh eh i dati messi a disposizione nel portale trasparenza della di ANAC abbiamo per esempio sviluppato un'altra applicazione che è stata particolarmente utile eh in fase in fase covid eh cioè quella di eh aver estratto eh da questa banca dati eh quei contratti pubblici ehm che eh riguardano riguardavano il eh il coronavirus cioè il covid e quindi ecco qui avete della dimostrazione di quelli che sono eh gli importi eh vedete si 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 tratta di eh di trenta miliardi di eh di euro di decine di migliaia di ehm di eh di eh di contratti pubblici e attraverso questa applicazione che si chiama bandicovid.it mettiamo eh a disposizione strumenti di esplorazione di analisi di questi dati per territori per tematiche per per tipologie di procedure per stazioni appaltanti ehm ehm e e anche questo è diventato questo sito come gli altri di cui parlavo chiaramente un riferimento per per chi si occupa di queste questioni un riferimento per chi produce informazioni per i media per le istituzioni stesse eh anche qui rimettiamo a disposizione questi dati lavorati estratti lavorati eh e rielaborati da noi nella sezione open data della del del sito di eh in questo caso appunto di eh bandicovid.it eh una considerazione a chiusura visto che il tempo è scaduto è che ehm il il eh nella nostra esperienza ehm il riutilizzo ehm come dire con grande con grande impegno con grande investimento da da parte nostra ehm ci pone in una in un'ottica di ehm di collaborazione con le con le pubbliche amministrazioni se siamo costretti a fare degli accessi agli atti eh nel caso della ehm della ehm del PNRR perché i dati ehm sono stati pubblicati in maniera ehm davvero farraginosa e sono tuttora eh mancanti ehm creando un danno eh non soltanto a noi che su questo lavoriamo ma evidentemente alla eh alla pubblica opinione alle altre istituzioni stesse che molto spesso devono lavorare con dati mancanti ehm il ehm la collaborazione eh si traduce molto spesso in una in una ehm in una miglioramento in una potenziale miglioramento della qualità dei dati con tutte queste in tutti questi casi di cui abbiamo parlato abbiamo sempre segnalato eh mancanzi e problemi sia nel caso della della Camera del Senato ma anche nel caso della ehm di Anac ehm questo ha consentito di eh migliorare le pubblicazioni ehm e eh devo dire eh l'esempio di ehm Italia domani è davvero preoccupante riguardando appunto un tema così strategico come quello che del del PNRR eh a due anni dalla dal suo avvio eh se ancora eh la pubblica amministrazione non in questo caso il governo non dispone di un sistema informativo all'altezza ehm di questo compito questo non è soltanto un problema diciamo per addetti ai lavori o di eh di dati aperti un problema proprio di governo del processo quindi politico e di gestione delle risorse. I dati sempre di più sono espressione di un sono un passaggio essenziale per il governo dei processi e una cattiva gestione della eh dei dei dati inevitabilmente si traduce in un problema nella nel governo. Grazie Vittorio grazie dell'interessante intervento che ci 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 evidenzia proprio la necessità no di migliorare l'interazione tra 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 le comunità tra tra chi beneficia chi usufruisce dei dati realizza applicazioni e servizi e e e le amministrazioni no? Cioè questo rapporto difficile no? Tra 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 i vari soggetti per e quanto poi appunto questo lavoro produce no? Il il fine ultimo di tutto questo processo che appunto conoscenza condivisa e come dire monitoraggio e attenzione al alle risorse pubbliche no? In qualche modo quindi eh questo è un è un aspetto prego. Volevo aggiungere rispondendo anche delle domande che tutte ehm tutta la documentazione anche delle delle domande degli accessi ai dati che abbiamo fatto la trovate la trovate sul sul nostro sito openpolis.it ma anche la eh la slide che ho prodotto contiene dei link eh alla la documentazione sia dei dei progetti sia delle eh degli accessi dati sia della come dire del grazie che pubblicheremo appunto sulla pagina poi dell'evento nel nel fine mattinata inizio pomeriggio ehm grazie c'è un un'ultima domanda di Pasqualino Chianese che chiedeva se si possono registrare tutti o solo chi appartiene alla pubblica amministrazione a OpenPNRR infatti stavo per 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 conoscenza stavo rispondendo io ma insomma è ovviamente aperto a tutti gli interessati ovviamente di cittadini alla alla conoscenza dei dati di processo quindi è un ente non profit e si basa anche anzi direi soprattutto sulle sulle donazioni dei dei cittadini quindi siamo grazie grazie a te Vittorio siamo abbiamo concluso puntualmente alle undici e trenta ehm ricordo quindi che appunto i materiali e la e la registrazione video saranno pubblicati nel nel primo pomeriggio sulla pagina del del webinar con questo vi saluto vi ringrazio ringrazio tutti i relatori eh avremo sicuramente altre occasioni di di incontrarci e di discutere assieme di di questo di questo percorso di questo di questo processo di pubblicazione dei dati che appunto è un è un elemento fondamentale no di conoscenza e di e di rapporti tra 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 amministrazioni cittadini e e e imprese no per periodi di utilizzo dei dati stessi eh di nuovo grazie a tutti grazie a tutti i partecipanti eh un saluto e a presto e ci ci vediamo sicuramente a un prossimo a prossima ai prossimi appuntamenti nei prossimi mesi stiamo progettando nuove nuove e nuovi percorsi di 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 webinar e di condivisione di 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 questo di questo percorso grazie di nuovo e una buona giornata a tutti grazie a tutti